Sul nuovo legno e questione ambientale rigettiamo la dicotomia che per noi non può e non deve esistere. Per la CGL Avellino l'ambiente, la salute e l'occupazione vanno sempre salvaguardate. Sono le parole del segretario Fiordellisi il giorno dopo la mobilitazione davanti la prefettura. Gli operai, dopo l'annuncio della chiusura, attendono un segnale da Confindustria piuttosto che una convocazione al Mise per aprire ufficialmente l'avvertenza e darle respiro nazionale. Intanto hanno proclamato sciopera oltranza per due ore a turno. Noi pensiamo che le battaglie su ambiente e lavoro siano collegate, prosegue Fiordellisi. In questi 40 anni il gruppo Fantoni ha preso finanziamenti ma non ha mai realmente investito in Irpinia. E anche gli ambientalisti rispingono le accuse di aver portato Fantoni a voler chiudere dopo i continui allarmi lanciati sull'inquinamento provocato dalla fabbrica. Le ragioni sono ben altre. Che poi c'è un territorio che chiede rispetto per l'ambiente è una richiesta legittima. Figuriamoci poi se un imprenditore del calibro di Fantoni si fa intimidire da quattro ambientalisti. Perché così ci considerano. Mazza anzi rilancia domani in piazza per dire no al nuovo insediamento di una fonderia a piano d'ardine. Manifestazione cui ha aderito anche Sinistra Italiana. Anche la CISL chiede alla proprietà di rivedere la propria strategia aziendale e fa appello alla politica regionale e nazionale per farsi carico della vicenda. E sull'equazione inquinamento-chiusura il segretario Melchion aggiunge non si può morire di lavoro ma non è neanche comprensibile che per tutelare l'ambiente si chiudano tutte le fabbriche. Bisogna che si mettano in regola e si trovi il giusto mezzo.